Ora vi mostrerò il Super Centro Olimpico di Formia Ovviamente con l'aiuto del mio Balance Super Vamos! Questo è il dormitorio, uno dei dormitori Fate quanto è bello, tutte le montagne dietro, là c'è la pista Qua dentro c'è la mensa Mensa, 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 mensa Andiamo direttamente in pista Ciao! Fisioterapista nazionale, Antonio saluta Fisioterapia 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 Tut atatare Fisioterapia Non ci si pres actu Questa è avvenibile Fisioterapia Grazie per la visione!